Ciao ragazzi, vedo il video, oggi riprendiamo il gioco in YouTube Live che per caro non posso fare la serie gravata perchè qualcuno va a pulsare il PC stavo di là però qua non so freddo qua però sono calduccio in camera mia e qui siamo allora andiamo a prendere il nostro giochino allora siamo arrivati e dove siamo arrivati e continuiamo eccoci qua è un nuovo gioco ok c'ho fame c'ho fame c'ho fame io immaginavo da c'ho fame ah ragazzi la serie la serie finisce a 10 arriva c'ho fame acqua ok c'ho acqua perfetto il video è un sacco di tango e... vuoi venire? è un sacco di tango non è un sacco di tango non è un sacco di tango mi sovivene i giochi i giochini Ah! Allora veglia il video che ho sigo tragera. O se avancava a comprare il pixivo eh! Obligato! Y a un po' se avancava. Pixi. Allora. Cattiera ce la facciamo a comprare. Vai. Subbino. Ok va. Andiamo a lavorare. Subbino. Ok. Però la cattiera nuova ce l'abbiamo come questa. Ce l'abbiamo. Perfetto. Poi. Vai. Allora non c'è solo. Ok. Perfetto. E... Compriamo qui. Allora non c'è ancora più. Qui. Ok va. Qui c'è ancora mia. E c'è fame. Perfetto. Questa. E qui. Questa. 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 un gioco manca 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 vai vai non bella beboca ma beboca vai beboca che va vai andiamo a rubare e poi clicchiamo subito un video ok allora registriamo e... carofiugi vai carofiugi dos e... carofiugi dos e... 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 ma e... vai vai e... 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 ok... carofiugi... wow e... 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 Perfetto. Vai. Vai. Ok. Perfetto. Calcio di uno. Non voglio più che fa. Mamma mia. No. Vai. Ma io la pietchina. Dai. Allora qui come la mia bella. No. Massimo. Massimo come la teca. Per la calza. Per. Come si fa per cambiare. No. Forza. Vabbè. Allora. ... Ma erodighe. No. Proviamo. Che ci funziona. Ah, non sta cadendo il video. Ancora. Vai. Vai a far pigere. Poi andiamo a rubire a registrare il PS1. no mi fa no no piacere e piacere vai e 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 un po' di più non è vero non è mancato un gattipa un gattipo un gattipo un gattipo un gattipo un gattipo un gattipo è così non è non è bello avanti l'emanasono Perfetto. Perfetto. E... ... 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 be anday what they líquili i sarete che becci eva che becci eva che becci e sei ma sono e sei Si è un po' più calore E' un po' più bella Grazie a tutti. Ok, ora faccio il video. C'è un piccolo film. La vera che si non ci sono anche di. C'è un piccolo che è venuto a me. ok vai mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia noia ma la mia che pang bella buona Grazie a tutti. Grazie a tutti.